Una buona giornata e bentrovati per questa prima edizione del nostro giornale. Bilancio pesante per le morti legate alla coronavirus nella conferenza stampa verso la sede della protezione civile. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 133, passando a 366 con un aumento del 57%. L'incremento dei malati passa a 6387, meno marcato l'aumento delle persone guarite, diventate in totale 622. Intanto il Premier Conte dice che questa è l'ora più buia per il nostro Paese, ma è il momento delle responsabilità da parte di tutti. Intanto rivolta in numerose carceri italiane contro le misure previste dal decreto del Governo. Dubbi e criticità sono state espresse dai governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna che vogliono cercare quantomeno di eliminare da questa stretta anche 14 province. Intanto le regioni del Sud, tramite i loro governatori, decidono che coloro che arriveranno dalle zone colpite dovranno essere messi in quarantena. Intanto andiamo ad ascoltare sul piano delle misure adottate dal Governo cosa ha detto ieri in conferenza stampa il responsabile dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusa Ferro.